Buongiorno Pierluigi Ansuinelli, Portfolio Manager Franklin Templeton Multi-Asset Solutions e grazie per aver accettato l'invito a questa intervista con France People. Grazie a voi, un piacere. Innanzitutto parliamo un po' del panorama italiano alla luce della tua esperienza, in particolare del tuo rapporto e conoscenza del panorama degli investitori istituzionali. Quali sono in questo momento, per la tua esperienza, per quello che stai vedendo, le domande che si stanno ponendo questo tipo di investitori e se tutto quello che è successo dall'inizio dell'anno ad oggi, in particolare con la grande correzione del primo trimestre e il riposizionamento delle asset class, se cambieranno le esigenze e che cosa andranno a ricercare questa tipologia di investitori. Dunque, diciamo che a livello istituzionale, quindi non di investitore al dettaglio, ma a livello istituzionale, a nostro avviso non dovrebbe cambiare molto perché il modo in cui noi siamo abituati a lavorare è con una strategia ben definita sempre alla quale ci atteniamo, cercando di non farci trascinare dall'ultima notizia o dall'ultimo utile della società che magari è riportato oggi. In Italia questo non sempre accade, quello che abbiamo notato negli ultimi anni che anche grandi investitori istituzionali, ad esempio fondi pensione, hanno gradualmente accorciato l'orizzonte di investimento e questo li porta, o se vuoi ci porta, a essere più sensibili alle notizie di breve periodo. Andando avanti, secondo me la prima cosa che ho detto è quella di avere una strategia coerente con gli obiettivi o qualcosa che si raffermerà ancora, perché mi consente di navigare queste fasi di incertezza e questo te lo dico perché tutta questa crisi e il recupero che stiamo vivendo adesso è venuto in un tempo rapidissimo. Questo non era mai successo in tempi così rapidi, quindi nell'arco di un mese c'è stato l'armageddon, il crollo, nell'arco di poche settimane, in meno di un mese, c'è stato un fortissimo recupero. Quindi non ti dava neanche tempo di razionalizzare e io dico la verità, noi la prima fase del coronavirus l'abbiamo sottostimata come credo un po' tutti, era difficile capire quello che sarebbe successo dopo. La seconda fase l'abbiamo razionalizzato un pochino meglio, ma subito è arrivato il supporto delle banche centrali e dei governi e quindi bisognerà essere molto rapidi a vedere un po' il quadro in generale e non farsi trascinare da quello che dice la Federal Reserve piuttosto che la BCE oggi. Quindi andando avanti questa cosa impatterà sul modo di gestire i portafogli e se mi permetti, con questo chiudo, il tema della tecnologia che cominciava a preoccupare in molti per un tema di valutazioni ed effettivamente è un tema che esiste ancora oggi. Alcune società sono un po' troppo care, però rapidamente è stato posto in tutta altra luce. Quindi si è capito come questo settore, innanzitutto non è più un settore solo, perché il tema tech impatta tutti i settori ed è un tema che ci accompagnerà in modo fondamentale anche nei portafogli di qui ai prossimi anni. E questo è un impatto molto grande di come vengono gestiti i portafogli rispetto a prima. Una cosa che hai citato è la necessità di elaborare in modo veloce e organico tutti i dati che arrivano, tutte le notizie che arrivano e i dati che ci arrivano da ogni parte del mondo. Appunto siamo di fronte a una crisi pandemica, quindi a livello globale, siamo di fronte a diversi atteggiamenti, quello delle banche centrali comunque si dimostra coordinato, quello dei governi dobbiamo andare a valutare i diversi atteggiamenti dei differenti governi. Per un asset manager globale come Franklin Templeton, che ha 600 professionisti dell'investimento in tutto il mondo, serve 170 paesi, significa anche avere size e capacità di mettere in campo una ricerca di un certo tipo, di una certa profondità. Una cosa interessante secondo me è se riesci a farci capire più nello specifico come questa grande mole di ricerca, di dati che vi arriva anche da tutti i professionisti che avete sparsi per il mondo, si riesce poi a sintetizzare in una view unica utilizzabile all'interno dei portafogli come quelli che tu gestisci. Sì, dunque è fondamentale sia avere le 80 persone che sono tra gestori e analisti che fanno prodotti multi-asset più tutti gli altri analisti e gestori sui singoli mercati, ad esempio c'è il team India, c'è il team che si occupa del Medio Oriente, c'è il team che fa il fixed income europeo, noi sfruttiamo entrambe le cose, il primo team è indipendente, nel senso che la nostra decisione è indipendente da quella che fa il gestore in India piuttosto che a Dubai. Però il vantaggio è che così, come dicevi tu, riesci a filtrare, analizzare, filtrare tutte le informazioni, chiaramente dovessi farlo io da solo sarebbe ovviamente impossibile. E come si fa questa cosa? Ogni settimana noi abbiamo formalmente due meeting al quale partecipano tutte le 80 persone del team multi-asset e poi a rotazione chiamiamo a parlare dei gestori specialistici sui singoli temi che ci interessano, per esempio settimana scorsa, anzi sì settimana scorsa, abbiamo avuto il team che fa l'obbligazionario europeo, il team è basato a Londra, però il tema era molto pressante per noi perché c'erano le banche centrali in movimento, c'era il tema Italia, c'era il tema delle autorità europee che insomma stanno un po' perdendo tempo nel supportare i paesi che hanno bisogno e c'era anche un altro tema, se vuoi quello del bias domestico o meno. Mi spiego meglio, ad esempio le persone analisti in America tendono a vedere l'Europa in un modo che noi europei non capiamo e spesso è un modo in questa fase negativo, cioè l'Italia diventa il problema principale del mondo quando probabilmente ce n'è qualcuno un po' più grande del nostro. Noi vediamo i loro problemi in modo indipendente, avere un gestore che ogni giorno è costretto a gestire i soldi in maniera pratica e tra l'altro è basato a Londra, quindi se vuoi tra virgolette un po' una parte terza adesso dopo la Brexit, ci ha consentito, ci consente di mettere a terra un po' tutte le idee. Ti dicevo, due incontri ogni settimana, il primo incontro è di presentazione dei temi, delle idee di investimento, c'è una discussione aperta e normalmente funziona con la tecnica della, si chiama, dell'avvocato del diavolo, ossia un gestore e alcuni analisti presentano un tema di investimento e sostanzialmente tutti gli altri, chi vuole, deve, ma non per divertirsi, deve semplicemente testare l'idea per dire, ma io non sono convinto che succede se succede questa cosa, hai verificato questo, e se questa cosa passa, questa fase di test, durante il secondo incontro, le persone più senior, quindi non tutti gli 80, ma un team molto più ristretto, decidono a te, ok, questa idea di investimento viene validata, può entrare nei portafogli, portafogli, per chi vuole, cioè non sei costretto a farlo, ma per chi vuole, l'idea può entrare nei portafogli, quindi parti da un range molto grande di informazioni e poi lo filtri pian piano fino a validare la singola idea di investimento. Ecco, quindi andiamo ancora di più all'interno della tua gestione, dall'inizio dell'anno ad oggi, quali sono stati i cambi fondamentali, qual è il tuo attuale posizionamento? Luca, allora, secondo gli standard che seguiamo, ossia della nostra allocazione ideale, noi siamo arrivati a febbraio piuttosto a scarichi di rischio e ricordo che la discussione che facevamo più spesso era se era opportuno aggiungere rischio dopo un rally che già proseguiva per un po' di tempo e il mercato era un po' caro e dopo scoppio del Covid sostanzialmente il rischio sembrava anche troppo, però in portafogli all'epoca avevamo alcune strategie che erano lì e non producevano nessun tipo di contributo al portafoglio, due in particolare, eravamo in realtà da un paio d'anni lunghi di volatilità, avevamo delle strategie fatte con degli swaps che consentivano di guadagnare se hai il famoso rischio di coda, ossia se capita l'evento raro che fa schizzare verso l'alto la volatilità. Queste cose qua, se tu le compri in periodi normali, hanno un costo sostanzialmente molto molto basso, però prima di pagare impiegano, è un po' l'idea del cigno nero, io mi tengo questa cosa in portafoglio nel caso in cui, e poi avevamo un bel po' di opzioni put, quindi sostanzialmente scommettevamo sul fatto che il mercato scendesse ma limitavamo la perdita al premio pagato con l'opzione. Anche in questo caso costavano molto poco, erano lì nel portafoglio e queste due cose insieme ci hanno aiutato un bel po'. La terza cosa che ci ha aiutato e senza ripeto che facessimo nulla avevamo una posizione lunga di duration, quindi eravamo lunghi sui tassi di molti paesi e senza offesa per nessun paese ma piuttosto scariche di Italia e di Spagna. Pur consci che il bond non rende nulla, ma l'idea era quella che il bond in questa fase serviva per ridurre il rischio, non per guadagnare lo yield e il rendimento, ma per ridurre il rischio. Queste cose ci hanno aiutato a perdere meno, ma non a evitare le perdite. Cosa abbiamo fatto durante la fase acusa della crisi? Abbiamo leggermente limato la parte investita in corporate bond e questo fino al giorno in cui le banche centrali hanno detto compriamo anche corporate bond. A quel punto il quadro è cambiato radicalmente e non abbiamo comprato, di qualità abbiamo smesso di vendere. L'altra cosa che abbiamo fatto è che abbiamo comprato un po' di oro e questo ha aiutato a fasi alterne e abbiamo ulteriormente rivisto il portafoglio obbligazionario, ad esempio abbiamo liquidato emittenti come il Belgio o la Francia e comprato strumenti derivati che investono in titoli pubblici di Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Questo perché sono emittenti più sicuri per tanti motivi di carattere fondamentale. L'abbiamo fatto con derivati così non abbiamo il problema di coprire il rischio valutario. se lo fai tramite futures non hai il problema di dire sì mi espongo al trade americano ma anche il dollaro. In questo modo questo rischio è stato limitato. E l'ultima cosa è finisco verso l'ultima parte del mese di marzo abbiamo in realtà aggiunto un po' di rischio. L'abbiamo fatto ancora una volta con opzioni, questa volta opzioni call. Il motivo qui qual era? Era che normalmente c'è un vecchio adagio che viene spesso tirato in ballo nel mercato finanziario soprattutto ex post ed è quello di non combattere mai le banche centrali. Questa cosa sembra controintuitiva quando sei nel mezzo di uno shock con forte recessione dislocation di mercato però storicamente è una cosa che è sempre stata vera. Quando le banche centrali entrano in gioco e lo fanno questa volta l'hanno fatto veramente in modo molto molto forte e non è veramente saggio mettersi contro. Quindi abbiamo giocato questo movimento con delle opzioni perché ad oggi siamo ancora convinti che è un movimento che potrebbe non durare ancora per molto. È stato un po' troppo forte un po' troppo rapido e quindi abbiamo limitato un po' da nell'inizio e poi sfruttato un po' la gamba a rialzo. Ora siamo alla finestra per vedere soprattutto su fronte fiscale come vanno avanti le cose. Ti dico questo perché la parte monetaria in realtà di sé non crea domanda e noi abbiamo avuto uno shock da domanda ossia non crea domanda direttamente se io do soldi a te banca tu per creare domanda devi dare credito all'economia quindi alle imprese allora uno devi voler dare credito e se magari hai già una situazione interna come banca un po' problematica non è detto che tu lo faccia due l'impresa deve venire da te e chiederti soldi e se l'impresa ha già dei problemi di riduzione dei ricavi aumento dei costi non so quanto è propensa a chiederti un ulteriore indebitamento la parte fiscale invece fatta in un certo modo arriva direttamente a monte e può direttamente stimolare la domanda questa cosa è evidente se tu lo fai tagliando le tasse dando sussidi a reddito e facendo iniziative di questo tipo quindi più vediamo di queste manovre più diciamo diventiamo non direi ottimisti direi meno negativi che forse è il modo migliore di vedere le cose in questa fase se guardiamo alle soluzioni possibili per investire dividerei il campo delle aspettative in due diciamo i grossi idee di investimento la prima come gestire la fase attuale che è un po' più incerta la seconda come sfruttare l'opportunità di lungo periodo allora per la prima fase quella attuale che può durare per qualche trimestre ancora il suggerimento è di guardare a un fondo che si chiama Franklin Diversified Balanced è un fondo multi-asset dinamico in cui facciamo tutte le cose che ho raccontato in precedenza e altre ancora quindi si muove molto rapidamente e si è comportato veramente bene in questa fase guardando invece il lungo periodo ci sono due temi che emergono decisamente come interessanti uno di cui si parla molto anche troppo la tecnologia noi abbiamo un fondo storico si chiama Franklin Technology e ricordo anche che noi siamo basati nella Silicon Valley quindi storicamente abbiamo un vantaggio competitivo abbiamo anche lanciato un fondo che si chiama Franklin Innovation per allargare il concetto tecnologia a tutti i settori perché esattamente questo è quello che sta accadendo non è più un settore legato alla Apple alla Google ai famosi nomi di cui parlano tutti ma entra un po' in tutti i settori dell'attività economica l'altro tema di cui si parla meno è quello dei mercati emergenti e dico questo perché anche questo è un tema per noi storico tutti li guardano ora come un rischio in realtà anche per loro ci sarà una trasformazione e non è più vero che i mercati emergenti li compriamo e li vendiamo tutti in blocco andare a selezionarli sul singolo paese sul singolo emittente farà una differenza fondamentale pensate semplicemente all'impatto che c'è stato a causa del petrolio molto negativo per Brasilia e Messico molto positivo per Cina e India l'impatto anche tecnologico la Cina è più avanti e non sfruttare questo vantaggio competitivo che dà la tecnologia altre aree del mondo sono decisamente più indietro quindi questa cosa ci consente a lungo termine di approfittare di quello che è successo nei mesi di febbraio e marzo che c'è